Sul futuro delle terme di Sciacca è in programma una nuova riunione a Palermo con l'assessore regionale all'economia Marco Falcone dopo quella che si è svolta il 28 giugno scorso. Si attende in queste ore la conferma sulla data in cui tornerà a riunirsi quel tavolo tecnico costituito da Regione, Amministrazione e Consiglio Comunale, Parlamentari e Associazioni per fare il punto sulle iniziative che sono state portate avanti con Cassa Depositi e Prestiti posto che questa sia rimasta nel frattempo la strada maestra e che non ci siano altre novità rispetto al percorso che il Governo intende perseguire. Un intervento di Cassa Depositi e Prestiti attraverso il Fondo Nazionale del Turismo che consentisse di riqualificare il patrimonio termale per poi assegnarne la gestione a privati. Questo aveva prospettato l'assessore Marco Falcone e in questa direzione era stato annunciato che la Regione avrebbe trasmesso a Cassa Depositi e Prestiti l'ulteriore documentazione richiesta. Adempimento che pare sia stato soddisfatto solo in parte. Mancherebbe la perizia degli immobili per la quale la Regione si sarebbe rivolta al demanio. Insomma, bocce ferme o quasi ferme, ma nel frattempo è necessario affrontare anche due questioni di stretta attualità. Ci riferiamo alla gestione del Parco delle Terme a conclusione dei lavori di riqualificazione che sono stati effettuati. Sarebbe l'ennesima beffa avere investito 500 mila euro e continuare a tenere chiuso questo polmone verde. Un tempo fiore all'occhiello della città di Sciacca. L'altra riguarda l'ex convento San Francesco. Anche questa è una struttura che negli anni d'oro delle Terme era diventata location per eventi e convegni. Recentemente è stata riaperta, ma è necessario fare chiarezza sulla gestione della struttura. L'amministrazione comunale vuole capire la disponibilità del Governo regionale, posto che le risorse a disposizione del Comune, ha già ribadito il Sindaco Fabio Termine, non consentono di chiederne la gestione diretta. Prima ancora che con il Governo regionale sulle Terme di Sciacca è probabile che si generi un dibattito in Consiglio Comunale nel corso della seduta in programma domani sera, anche a fronte della recente presa di posizione del Comitato Civico Patrimonio Termale che ha richiamato Sindaco e Presidente di Sala Falcone Borsellino per aver annunciato mesi fa una riunione con i parlamentari che avrebbe dovuto svolgersi il 18 settembre, mentre invece tutto ancora tace. Consiglio Comunale che domani sera dovrebbe avviare l'iter sul bilancio con l'esame degli atti propedeutici, il piano delle alienazioni e di valorizzazione dei beni comunali e la rideterminazione delle aree da destinare ad edilizia economica e residenziale. Il bilancio intanto è stato esaminato dai revisori dei conti e trasmesso alla Presidenza del Consiglio Comunale per essere calendarizzato dalla competente Commissione Consiliare.